Dov'è andata? Lo sa, no? Via, lontano. Tutti spariti. Non sente il silenzio che c'è? Una perfetta operazione chirurgica. Sì, ogni cosa è stata asportata. Più niente che dolga, più niente che sanguine o palpiti. C'è veramente un grande silenzio. Nel suo genere è un capolavoro, professore. E qual è la punizione? Qual è? Non saprei. La solita, immagino. Cosa sarebbe la solita? Chiaro, la solitudine. La solitudine? Esatto, la solitudine. E non vi sarà clemenza? Non lo chiede a me. Non è compito mio.